Suo padre è maestro di scuola, mentre sua madre non lavora, ma è grazie a lei se Karim e i suoi fratelli sono cresciuti così. Così come? Karim è speciale. È attento agli altri e ha una capacità straordinaria di ascoltare e capire quello di cui hanno bisogno le persone. Tutto il contrario di me. Io lo stimo molto per questo. E quando vi siete... dove vi siete dati il primo bacio? Torbena monaca.